In arrivo per Elisa due super box tema arcobaleno ragazzi queste non ve le potete perdere ne facciamo una con la minuteria cancelleria e un'altra con i gadget da scrivania quindi seguitemi e partiamo a bomba con il mini cuscino peluche arcobaleno E' un nuovo arrivo appresco arrivato resta in piedi e sono sicura che farà impazzire tutti ragazzi è spettacolare passiamo al portachiavi a forma di macchinetta fotografica guarda all'interno scorrono tantissime immagini che tu ovviamente non vedrai però attivando la lucina qui sul retro diventa un videoproiettore guarda che carino ci sono tantissime immagini pucciose che si alterneranno sul tuo muro sul pavimento dove vorrai guarda sono spettacolari la luce non rende non le fa giustizia Ma ti garantisco che al buio sono fenomenali andiamo avanti proseguiamo con la nuvoletta tendinastro con tanto di wash tape arcobaleno io l'adoro troppo e l'adorate anche voi un mini set di mini boss evidenziatori pastel nelle colorazioni dell'arcobaleno e questa fantastica penna arcobaleno appunto l'inchiostro a mano mano che finisce cambia colore c'è il celeste il verde il fucsia il giallo il viola e così via un po di smalti all'acqua fantastici super sicuri si tolgono in un attimo e sono meravigliosi il set di gommine dolci sogno con tanto di arcobaleno unicorno stelline e quant'altro è questa pochette in silicone che potrai usarla o come porta monete o come una simpatica tracollina ora al mare è veramente eccezionale immaginati sulla spiaggia con questa tracollina fantastica ma torniamo alla nostra camera e prendiamo la lampada arcobaleno led ragazzi 4-5 colori meravigliosi e due strisce di segnapagine una da 7 e una da 10 colorazioni pasta e fluo una manciata di evidenziatori mini a capsula sono fantastici super super comodi e scrivono tra l'altro benissimo e il pin art arcobaleno basterà che tu poggi la mano per fare tutte le forme che vuoi torniamo alla cancelleria con il matitone 4 colori per disegnare e per sottolineare sui tuoi libri un righello arcobaleno della color book super super dolce e la fantastica borraccia 24 ore freddo 12 ore caldo colorazioni pastello a cui abbiamo aggiunto il suo astuccio abbinato che è veramente maxi post it a forma di arcobaleno sempre della color book e braccialetto multicolor con chums arcobaleno anche questo fantastico ora ti faccio vedere il sottomano da scrivania a forma di arcobaleno che è morbidissimo e servirà per proteggere la tua scrivania e la box è completata voglio sapere cosa ne pensi scrivilo nei commenti grazie